Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokemon Firehush, io sono Glacial Sphere e in questo episodio andremo innanzitutto a dormire per far passare il giorno ed ora vediamo cos'è in servo il cucui per noi. Vorrebbe che andassimo al Viale Royale, dovrebbe essere la traduzione in italiano oggi, e provare il loro tipo di battaglia first hand, non so cosa voglia dire first hand ma forse voi che avete visto l'anime potrete intuirlo, è ad est del Pagnola Ranch, quindi dovremo tornare al Pagnola Ranch tramite il nostro Charizard e andarci. Nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo catturato la seconda ultracreatura ovvero Buzzwole e abbiamo visitato il monte dell'Anachia, ora andiamo a Pagnola, eccoci qui, Pagnola Ranch e già che ci siamo potremmo prenderci anche l'ovetto che sicuramente ha fatto il nostro, appunto, il nostro Popplio e a questo punto possiamo anche toglierlo dalla pensione, Popplio che dite? Ha fatto tutte le uova che doveva fare, eccolo qui, anzi l'uovo possiamo anche portarcelo dietro, però per toglierlo dalla pensione comunque ci serve uno spazio, quindi per adesso lasciamolo qui. Poi togliamo dalla pensione, anche perché addirittura il prezzo si alza, ecco qua, sì prendermelo Popplio, grazie, non ho dito tenetelo pure, tanto lo terrete per sempre e già che ci siamo questo ovetto portiamocelo in giro, ecco qua, poi intanto Popplio lo lasciamo qui, questo diventerà il nostro, la nostra primarina, anzi il nostro primarina, lato che è maschio e vediamo se abbiamo altri Pokémon da cui fare uova, forse gli starter di questa gen, eccoli qua infatti, di cui non abbiamo ancora fatto le uova, nel frattempo quindi mettiamoli di loro, guarda, l'uovo lo riprendo subito, vai, sì, prenditi Fennekin e inizia a fare le uova anche di lui, nel frattempo questo ovetto lo portiamo in giro e lo facciamo schiudere, tanto non ci costa nulla no? Ecco fatto, possiamo andare a questo punto di qui, finalmente quelle Miltank se le sono andate, bene, e possiamo arrivare quindi al Viale Royale, allora, io mi metterei davanti il nostro Solgareo perché deve farsi un po' di livelli e come secondo Pokémon Rowlet, iniziamo ad esplorarlo, allora, attenzione, il terreno sacro per gli amanti del Battle Royale, vorrebbe insegnargli Gangshot, a parte che non lo può imparare nessuno, però no, grazie, allora, qui non c'è niente da fare nel centro Pokémon, iniziamo a parlare in giro alle persone, e questo ci dà un Primarium Z, ok, qua abbiamo quelli che ci danno invece i Cristalli Z per gli Starter, allora, intanto abbiamo trovato anche un Peak Nectar, per ricordio, qui abbiamo Revenge, metti 132, tu cosa vuoi? Ok, questo è venuto qui per il Muscat Royale, entriamo in questa casetta, vediamo un po' cosa c'è qui dentro, invece, salve, questo ci dà una Power Belt, interessante, ma nemmeno troppo, ok, il Muscat Royale usa questo, I want to be like him, but I'm not a trainer, maybe you can use it, ah, lui usa l'Insinium Z, interessante, però ci manca solo quello di Decidueye, allora, nel frattempo, qui abbiamo un HP App, e se non sbaglio, qui ci dovrebbe essere infatti due Caramelle Rari, faccio vedere dove sono quelle invisibili, una è lì, questo ci dà il Decidium Z, quindi parlateci, questo pescatore, lui invece non ci dice niente, l'altra invece dovrebbe essere qua, di Caramella Rara, eccola qua, bene, prima di andare appunto a fare la Battle Royale, andiamo qui nel Game Corner, e vediamo di prenderci, no, 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 non voglio, non voglio, voglio solamente prendere gli strumenti, voglio solamente prendere i premi, ok, la lotteria facciamola tanto, va bene, congratulazioni, Weasel, ok, ci dà PP App, perfetto, grazie, a questo punto però quindi i premi sono qui sotto, vediamo un po', allora, sicuramente mi serviranno un bel po' di coins, perché devo prendere sia Tartonator che Komala, eh già, perché Komala si può trovare solo qui, cioè è impossibile tenerlo da altre parti, quindi piano piano facciamoci un po' di soldi, ecco qua, mentre Tartonator, invece, si può trovare solamente nella zona Safari, ma con l'1% di probabilità di spawn, e come sapete nella zona Safari poi una volta che spawnano, cioè non vuol dire niente, perché poi per catturarli è un casino ogni volta, quindi lì purtroppo tocca comprarsi anche Tartonator. Nel frattempo prendiamoci Komala. Ah, posso andare più su, perfetto, vai, allora prendiamoci direttamente tutti i soldi di cui abbiamo bisogno, tutti i gettoni, guardate i nostri soldi, guadagnati duramente come se ne vanno tutti per comprare questi dannati Pokémon. Ecco fatto, un po' quelli che dicono quelli che comprano i Pokémon nella realtà. Allora, Tartonator, prendiamolo. Perfetto, no, no, voglio dare il soprannome, e Komala. Ah, mi servono più gettoni, dannati. Vai, prendi ancora 500 e dobbiamo essere a posto. Dami Komala, grazie. Perfetto. Tra l'altro Komala, giocando a Pokémon Scarlato, pensavo fosse un Pokémon introdotto in nona generazione, invece mi sbagliavo, era già stato introdotto qui. Andiamo quindi a metterle in ordine nel box, anche perché mi sa che sono stati speriti, è appunto nel box di Kalos. Allora, tu sei fuoco drago e sei 776, vieni con me. 776, quindi 56, 62, 70, 68, 74, 56, qua. Poi tu invece, Komala, 775, quindi uno prima rispetto al nostro Turtonator. Ok, gli altri due Pokémon molto rari li abbiamo presi, ce li abbiamo, o meglio li abbiamo comprati col Vildenaro, però ce li abbiamo ora. A questo punto non resta altro che entrare nel Battle Royale Dome. Andiamo. Salve vecchietta. Nessuno sa chi sia dietro la Masked Royale, appunto. È un mistero ancora irrisolto. Tu invece cosa vuoi? Il Masked Royale è fantastico, è davvero difficile da battere, lo vedremo. Benvenuto al Battle Royale Dome. Vorresti entrare? Assolutamente sì. Chi vorresti come tuo partner? Chiawe o Sofocle? Chiawe perché ha Turtonator che è fortissimo, quindi prendiamoci lui. qui. Ok, e dovremo affrontare. Excellent, let's begin our battle. I'm not going to lose. Ok. Masked Royale e Sofocle. Ma il nostro compagno dov'è, scusatemi? Ah ok, non c'è lì dentro, ma c'è qui. Va bene. Allora, iniziamo con... Eh, tosta questa roba. Iniziamo con Zenheadbat su Charjabug. Perfetto, doppio focus su Charjabug ed è già andato a quel paese. Poi, su Incineroar invece... Eh, su Incineroar è un po' un casino. Andrei di Ironhead, però non è molto efficace, appunto. Purtroppo non posso fargli molto, con Solgaleo. Andiamo di Metal Sound, magari. Ok, la difesa speciale l'ho diminuita parecchio. Andiamo di Flash Cannon ora. Eh, però non gli faccio nulla. No, vabbè, è giusto così, è giusto così. Purtroppo Solgaleo non ha mosse per affrontare Incineroar, però c'è l'ha il nostro Incineroar. Vediamo chi resiste ora. Vediamo se resiste, anzi, ad una breccia. Ok, lui si potenzia, ma non penso basti. Oh sì, invece, incredibile! È bastato. Proprio un PS gli è rimasto. Perfetto, abbiamo sconfitto il Masquad Royale e Sofocle, Chris. Cool! Va bene. È stato fantastico. Grazie, Chiawe, che ha parlato senza nemmeno essere qui. Sì, a questo punto mi sa che abbiamo finito la giornata, credo. Intanto curiamoci Pokémon. Ecco fatto. E possiamo quindi tornare a scuola. Possiamo farlo direttamente tramite il teletrasporto ora, sì. Possiamo tornare ad Hawali. E quindi possiamo tornare verso il nostro quartiere generale. Piano piano stiamo prendendo anche i Pokémon di Alola, eh. Oggi Tartunetor e Komala. Oh, oh! E guardate qui chi c'è però. C'è il Team Skull. O Skull. Team Skull, forse meglio. Ma nel campo Rattata sono tornati. Allora, andiamo di Iron Head. Perfetto, poi Raticate. Lasciamo Sol Galeo. E usiamo il nuovo Iron Head. Uh, Sgranocchio ci ha fatto malissimo. Poi Yangoos. Cambiamo Pokémon e mandiamo Rowlet. Che deve farsi un po' di esperienza anche lui. E andiamo di Leaf Blade. E di nuovo Leaf Blade. Buono. Ed infine Spinnerhack. Lasciamo Rowlet. E andiamo di Pluck. Spennata. Buonissimo. E abbiamo battuto Sip. Poi. Dobbiamo battere anche loro. Allora, curiamoci un attimino i nostri Pokémon. Quindi Sol Galeo. Rowlet. Ecco, fatto. Poi, già che ci sono, vediamo se posso insegnare qualcosa di figo a Sol Galeo. Al posto di quelle due mosse che anche tanto non userà mai. Allora, Heartquake potrebbe impararlo, vediamo. Uh, può imparare Heartquake. Ma assolutamente sì. Via Flash Cannon. Assolutamente sì. Benissimo. E poi, vediamo un po' se può imparare qualcos'altro di figo. Vediamo, eh. Vediamo cos'è che potremmo mettergli. Oltraggio? Oh, sì. È al posto di Metal Sound. Niente male, niente male. È diventato un Pokémon fortissimo. Allora, Acrobazia forse può imparare la nostra Signora Ora. Ok, l'aveva già imparata, effettivamente. E direi che va bene così. Direi che va proprio bene così. Ok. Salve, Yo-Yo. Vai, vai, Yo-Yo. Sfidami. Hippah. Che va nel campo Hondur. E questa volta abbiamo la mossa adatta per te, caro Hondur. Poi, Ekans. Lasciamo in campo sul Galeo. E andiamo ancora di Terremoto. Ed infine Drowsy. Lasciamo ancora sul Galeo. E andiamo di... Oltraggio. Attenzione. Drowsy resiste ad oltraggio di Sol Galeo. Va bene, non è Stub, ci sta, eh. Però... Complimenti a Drowsy. Vorremmo imparare Morning Sun? Cos'è? Una sua mossa peculiare? Ah, no, no, no. È la mossa che si cura, semplicemente. Mattindor dovrebbe essere, credo. Ok. Affrontiamo anche l'ultima recluta qui. Okazaki. Attenzione. Che va nel campo Golbat. E noi faremo... Zen Edbat su Golbat. Super efficace e addio. Poi Scraghi. Scraghi, manderei Rowlet. E andrei di... Pluck. Buono. Super efficace e pure colpo critico. Lui si protegge, ma ritardando semplicemente l'inevitabile. Altra spennata. E addio Scraghi. Wow. Ok, a questo punto vediamo un po'... Qui ci sono tutti i tizi che bloccano proprio il passaggio. E dobbiamo sfidare loro per salvare gli Amli dietro, immagino. Di Spank pay for the way he made me feel back when we were kids. Get ready. Attenzione, eh. Parole profonde. Parole profonde. Farà pagare questo ragazzo per il modo in cui l'ha fatto sentire quando erano bambini. Attenzione. Va bene. Cos'è? È stato bullizzato da bambino il tizio del team school? Quindi è la stessa cosa del team, quello di Scarlato e Violetto. Boh, vediamo. Allora. Tipo Verena o qualcosa. Quindi Zenhead Bat, super efficace e addio Sarandit. Poi ti mandi Zubat. Sì, cambiamo Pokémon. Mandiamo Roulette. Penso che Roulette possa combattere contro uno Zubat senza troppi problemi. e tirargli una bella spennata. Hmm. Beh, qualche problema ce l'ha effettivamente. Però riesce comunque a batterlo, dai. Poi Garbodor cambia un Pokémon. Anzi, lasciamo in campo Roulette. Così che si prenda comunque punti esperienza. E poi mandiamo in campo Solgaleo. Toxic, non ha effetto su di noi. E andiamo di Heartquake. Perfetto. Roulette sarà a livello 36. E vorremmo imparare Brave Bird. Attenzione. Io direi di sì. Vai, torniamo di Black e mettiamo di Brave Bird. Poi Angus. Lasciamo Solgaleo. E andiamo di Zenheadbat. Perfetto, abbiamo sconfitto anche quest'altra recluta del Team Skull. No way! Questo non è bello. Andiamo via da qui. Addio Tap. Grazie per il tuo aiuto. Anzi, ti ringrazio per il tuo aiuto. Non ne avevo davvero bisogno, ma è stato carino vedere qualcuno agire in maniera, appunto, carina. Permettimi di ripagarti. E ci da Livium Z. Attenzione. Grazie, Carolian. Ok. In Fort Me, an Alola League is being set up. Attenzione. Ci dice che stanno preparando una lega di Alola. Avendo già provato la lega di Kalos, sto puntando anche a quella. Interessante. Quindi veniamo a conoscenza del fatto che stanno effettivamente preparando una lega di Alola, a cui noi ovviamente credo che parteciperemo. Però a questo punto, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per aver eseguito questo video fino alla fine. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video.